Sciclip Senigallia nel fuori pista ok Tommaso ok adesso Gino vediamo Gino un po' di fiatone qui a Vorriazzo la neve fresca non manca ok Gino dove sono gli altri il non battuto non manca quella è la Paola è lì che titubano è l'approccio di questo muro ecco Claudio che è partito insieme a Maurizio Claudio si è già fermato Bigi sono già qui non vedo Massimo Massimo dov'è? sì uno Massimo lui l'altro Massimo il camionista forse è quello là in mezzo alla neve fresca che ha tolto il cappello o ha perso la beretta l'altra volta forse non lo riconoscevo forza vai Claudio sei il migliore sei il migliore Claudio Paola e Giorgio bravissimi bravissimi ragazzi vai Maurizio è il gobro di Notre Dame Claudio ancora la metà pista no Massimo Massimo ma almeno non c'è giro ma l'ho fatta tutta lì o te Massimo e te fanno tre anni fa ma nera tutta Godia ma questa l'avevano fatta prima no eccolo in diretta il volo di Massimo ok con questo volo di Massimo la patudia dello Ciclope Senigallia prosegue il suo cammino ma tu hai sbagliato in strada mi sapevo che l'avevano fatta che lui non c'era lui